Salviniii! Io sono Salvini, ministro dell'interno, il difensore dei porti. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi Questa è casa nostra e tutti gli altri devono tornare a casa loro. Evviva la Lega! E io diventai ministro, pure vice premia, pensa a te.